Vediamo modelli di piccolo e grande segnale del transistore effetto di campo. Partiamo dal modello di grande segnale, anzi scusate, ho sbagliato, vediamo il modello di piccolo e segnale. Il modello di grande segnale abbiamo già visto sia per i JFET sia per i MOSFET. Vediamo il modello di piccolo segnale. Il ragionamento per il modello di piccolo segnale è a comune per i diversi tipi di FET. Poi cambiano le espressioni dettagliate ma insomma il concetto generale è lo stesso, quindi vediamolo in senso generale. Noi abbiamo che la corrente d'uscita è funzione della VGS che è la tensione di controllo e della VDS che è la tensione sulla maglia di uscita. Va bene, stiamo facendo riferimento per esempio a questa situazione nel caso di un JFET. abbiamo un source a comune, gate alla maglia di ingresso, drain per la maglia di uscita. Quindi applichiamo una tensione VGS, la corrente nella porta di ingresso è la corrente IG. per l'uscita la tensione è VDS e ID è la corrente nella porta di uscita. Va bene, quindi siamo in una configurazione source comune. e questa ID in funzione di VGS e VGS sono le caratteristiche di uscita. Quindi la corrente di uscita è in funzione della tensione di uscita e di una grandezza d'ingresso, che in questo caso è VGS e che adoperiamo come parametro. Allora, come procediamo per fare il modello di piccolo segnale? Vi ricordate, prima di tutto rappresentiamo ogni grandezza come parte costante più parte variabile. e poi facciamo l'espansione al primo ordine. Quindi abbiamo una derivata di ID in funzione di VGS, calcolare... Aspettate, prima il termine di ordine è 0. Dunque, questo lo mettiamo dopo. Prima, il termine di ordine è 0, come quando facciamo sempre l'espansione. Quindi abbiamo ID in funzione della parte costante. Quindi questo qua è che è il punto di riposo. Poi abbiamo la derivata parziale di ID rispetto a VGS, calcolata nel punto di riposo per la variazione di VGS. E poi abbiamo la derivata di ID rispetto a VDS, calcolata nel punto di riposo per la variazione di VDS. D'accordo? Quindi qui riporto il termine a sinistra dell'uguale. Chiaramente abbiamo che queste due quantità sono uguali. La ID grande è uguale a questa roba qua, all'ID di riposo. E quindi otteniamo un'espressione che lega soltanto alle variazioni. Allora, dobbiamo attribuire un nome a queste due derivate. Questa cosa qua è una corrente divisa una tensione, dimensionalmente è una conduttanza. Dal punto di vista funzionale è esattamente una transconduttanza. Perché vedete, si dice transconduttanza se mette in relazione la corrente in un ramo alla tensione, diciamo, tra altri due nodi, non tra i due nodi in cui passa la corrente. Quindi vedete, vedete, D è tra D ed S, VGS è tra G ed S. Quindi stiamo parlando di corrente in un ramo compreso tra due nodi e tensione tra altri due nodi. Per questo, questa è una transconduttanza. Da punto di vista circuitale si esprime con un generatore di corrente controllato da tensione, perché la corrente di D è controllata da tensione da un'altra parte, quindi VGS. Ed è una transconduttanza differenziale, perché viene ottenuta facendo una derivata. La parola differenziale vuol dire che è una derivata. Si indica con la lettera GM. E poi invece abbiamo questa quantità. Vedete, anche questa qui dimensionalmente è una conduttanza, però questa è proprio una conduttanza. Cioè non è una transconduttanza, perché la corrente D è tra drain e source, derivata rispetto alla tensione VDS, che è sempre tra drain e source. Quindi questa è una conduttanza, per essere precisi, è una conduttanza di uscita, perché è relativa alla porta d'uscita. Quindi questa si chiama conduttanza differenziale, perché è una derivata di uscita. Quindi le caratteristiche di uscita diventano, riscrivendo tutto, id piccolo uguale a GM VGS, la parte della transconduttanza, più la conduttanza differenziale di uscita si indica in generale con GO, dove la O sta per output, GO VDS. Chiaramente a queste espressioni noi possiamo associare un circuito equivalente. Allora la riscrivo qua, id è uguale a GM VGS, più G0 VDS. Dimensionando, ecco, della puntissima circuitale, questo come si rappresenta? Qui c'è il gate, qui c'è il drain, qui c'è il source a comune. Abbiamo la corrente ID tra drain e source, la somma di due termini, quindi è fatta da due termini in parallelo. Un termine è GM VGS, che si indica con un generatore di corrente di valore GM VGS, dove VGS è la tensione tra gate e source. e in parallelo c'è una resistenza di valore 1 su G0, perché vedete questa corrente qui viene 1 su GO, questa corrente qui viene GO per VDS. Quindi questo è il circuito equivalente. Due cose, chiaramente, hanno, come dire, esattamente lo stesso significato. Per quanto riguarda invece le caratteristiche di ingresso, alla porta di ingresso, per un FET, la cosa è abbastanza semplice, perché praticamente abbiamo che la corrente, caratteristiche di ingresso, dovremmo scrivere la corrente di ingresso in funzione della tensione di ingresso, per esempio, della corrente di uscita. Ma, praticamente, noi diremo che la corrente di gate è sempre 0. Questa è una, in pratica, è un'approssimazione, perché nel MOSFET è molto, molto ragionevole, nel senso che essendoci un isolante, su gate la corrente è praticamente nulla. Nel caso dei JFET non è esattamente, non è proprio altrettanto vero, perché, vi ricordate, nel caso dei JFET abbiamo al gate una giunzione PN tra gate e canale polarizzata inversamente. Quindi, come dire, una corrente passa, la corrente di saturazione inversa della giunzione PN, però, dal punto di vista pratico, la approssimiamo con uno, cioè, la consigliamo trascurabile. Ok? Ai fini pratici, per semplificare il modello equivalente. E quindi, che cosa vuol dire? Vuol dire che, dal punto di vista del piccolo segnale, anche avremo IG uguale 0. Per cui, come si rappresenta IG uguale 0? In questo modo, questa IG, si fa un circuito aperto a gate, e quindi diventa, il circuito equivalente di IG uguale 0 diventa questo circuito aperto tra gate e resto del mondo. Tra gate e drain non c'è un percorso di corrente, quindi la corrente di gate è 0. per questo motivo, questo circuito diventa il circuito equivalente di piccolo segnale del transistore effetto di campo. Vedete, questa è una struttura del circuito equivalente. Poi, lì ci sono due parametri che lo definiscono, GM e GO. Questi due parametri sono due derivate parziali, e a quel punto, nel momento in cui andremo a calcolare le derivate parziali, si avrà la differenza tra JFET e MOSFET, perché le espressioni delle caratteristiche saranno diverse in quel caso lì, quindi i valori delle derivate diventeranno diverse. Però fino a questo punto, il circuito equivalente è esattamente lo stesso. D'accordo? Quindi cambia soltanto l'espressione dettagliata dei parametri, e quindi, di conseguenza, il valore dei parametri. D'accordo? L'altra cosa che dovremmo fare, come abbiamo fatto per i transistori bipolari, è guardare le capacità interne dei FET. Almeno per vedere che tipo di capacità interne ci sono. Allora, vediamole per tutti e due i dispositivi che abbiamo visto. Per i JFET, e poi anche per i MOSFET. Allora, per i JFET che cosa abbiamo detto? Abbiamo detto che c'è una giunzione PN tra tra faccio solo la zona di svuotamento tra gate e canale e quindi una regione di svuotamento, per cui poi solo questa parte gialla del canale è effettivamente piena di cariche. Va bene? Allora, quindi dove stanno le capacità? Ovviamente se abbiamo una giunzione di svuotamento, una regione di svuotamento tra gate e canale, a quella regione di svuotamento sarà associata una capacità, come vi abbiamo visto per tutte le giunzioni PN. quindi avremo in pratica che, in realtà come è messa questa capacità? Questa capacità è tra gate e canale. Per comodità, noi la capacità che c'è tra gate e canale la spezziamo in una capacità che, perché il canale non ha un contatto proprio, quindi la spezziamo in una capacità che c'è tra gate e source e in una capacità che c'è tra gate e drain. perché avremo le forze del campo elettrico che andranno dal gate verso gli altri due terminali e alcune si collegheranno con il source e alcune di forza si collegheranno con il drain. D'accordo? Quindi in pratica abbiamo due capacità principali che sono CGS e CGD. Queste capacità dipendono dalla tensione applicata tra gate e source e dalla tensione applicata tra gate e drain perché queste tensioni determinano la profondità delle zone di svuotamento. Chiaramente varrà la seguente cosa che in regione lineare vi ricordate abbiamo detto le zone di svuotamento sono circa dello stesso della stessa profondità tra gate e source e tra gate e drain e quindi per simmetria avremo che le CGS e la CGD saranno uguali all'incirca perché poi UDS non è nulla insomma se è piccola saranno praticamente uguali in regione di saturazione che cosa succede? Vi ricordate che cosa succede? In regione di saturazione la zona di svuotamento tra gate e drain è molto più grande della zona di svuotamento tra gate e source perché abbiamo un canale che è rastremato in fondo è strozzato vicino al drain e quindi siccome la zona di svuotamento tra gate e drain è più grande la capacità tra gate e drain sarà più piccola quindi in regione di saturazione abbiamo tipicamente in realtà che la CGS è maggiore della CGD se prendiamo invece un MOSFET è un MOSFET Cosa abbiamo nel caso di MOSFET? Abbiamo un canale che è molto popolato vicino al source e poi di nuovo verrà stremato andando verso il drain nel caso di VDS positiva. Allora anche in quel caso lì dov'è la capacità? Dov'è la carica accumulata? Si vede qua nella struttura MOSFET che in pratica io qui ho una capacità, un condensatore a faccia e piane parallele. Una faccia è il contatto di gate, un'altra faccia è il canale sotto. Va bene? E quindi chiaramente quando aumento la tensione che c'è tra il gate e il canale aumenta la carica che c'è nella capacità. Quindi ho una carica che varia, una capacità che proprio fisicamente, geometricamente vedo rappresentata da questa struttura MOSFET e anche questa devo schematizzarla. Ripeto, perché devo schematizzare queste capacità? Perché quando cambio le tensioni applicate al dispositivo cambia la carica. Se cambia la carica vuol dire che entra o esce carica dai terminali, quindi ad una corrente. Bisogna che ne tenga conto. Va bene? Allora di nuovo questa capacità è tra il gate e il canale, ma il canale è contattato estremamente dal source e dal drain. E di nuovo ho questa capacità, quindi la spezzo in una capacità che, in una componente diciamo che vedo tra il gate e il source e in una componente che vedo tra il gate e il drain. D'accordo? Quindi immaginiamo di dover rappresentare le forze del campo, dal gate alcune si richiudono verso il source, alcune si richiudono verso il drain. Quindi ho una carica indotta sul source e una carica indotta sul drain. Allora, di nuovo, anche in questo caso vale quello che abbiamo detto per il JFET, perché in regione lineare la tensione VDS è piccola e quindi il canale non è rastremato. Abbiamo un canale più o meno uniforme sotto l'ossido, dal source al drain e quindi vuol dire, di nuovo, che per ragioni di simmetria questa capacità di gate la possiamo spezzare in due parti uguali, una tra gate e source e una tra gate e drain. In regione di saturazione, invece, abbiamo una cosa diversa perché la carica accumulata tra gate e drain, essendo il canale rastremato, è più piccola della carica accumulata tra gate e source e quindi la capacità verrà più piccola. Quindi lì possiamo dire che la CGS di nuovo è maggiore della CGD. Vedete, qui è esattamente lo stesso tipo di considerazione che facciamo nel caso del JFET. quindi quando vogliamo tenere presenti anche le cariche che sono presenti internamente, dobbiamo indicare nel circuito di piccolo segnale anche queste due capacità. quindi inserendo tutto il circuito equivalente di piccolo segnale del FET sarà fatto in questo modo. qui c'è il gate, questo è il drain e no, questo è il source, allora dobbiamo mettere tra drain e source due rami in parallelo, uno che si chiama gmvgs e l'altro che si chiama una conduttanza di valore 1 su go, e poi tra gate e source dobbiamo inserire la capacità CGS e tra gate e drain dobbiamo inserire la capacità CGD. questa è la VGS, questa qua è la VGD, questa è la ID e questa qui è la IG. vedete quindi la IG è nulla in continua perché abbiamo un isolante però se guardiamo le variazioni di tensione applicate allora abbiamo una IG che è non nulla perché passa una corrente nel gate ed è la corrente che va a caricare o scaricare le capacità che arrivano al gate. ora come sempre succede queste capacità le consigliamo quando il segnale, le tensioni applicate, le correnti variano nel tempo, per cui effettivamente è importante considerare se sono più o meno costanti oppure se variano molto lentamente quelle capacità possiamo trascurarle perché non danno luogo a correnti significative. se lo guardate bene questo modello assegna molto al modello di già colletto del bipolare in pratica dal punto di vista funzionale l'unica differenza è che il gate ha il ruolo della base in questo caso il drain, il collettore, il source dell'emettitore, quindi quando fate questa corrispondenza 1 a 1 il modello viene molto molto simile mancano soltanto le resistenze legate alla porta d'ingresso che sono presenti nel bipolare perché passa corrente in continua nella base ma invece non ci sono effetti perché non passa corrente in continua nel gate per il resto le altre componenti sono tutte presenti, va bene? pensate sono componenti che hanno un principio di funzionamento diverso ma poi quando andiamo a vedere il circuito equivalente in tutti e due casi è molto simile e perché questo? perché in pratica si comporta come giratori corrente comandati nel caso effett si scrive bene come giratori corrente comandati ad attenzione questa è la GMVGS, diciamo la parte più importante nel caso del bipolare c'è invece l'HFIB, generatore corrente controllato a corrente che abbiamo visto allora, fino a questo punto le cose sono uguali per tutti i tipi di FET vediamo come si differenziano quando andiamo a calcolare i parametri nel caso del JFET e nel caso del MOSFET vediamo prima il JFET per il JFET se vi ricordate avevamo scritto la trans caratteristica che è la grandezza che ci serve di più abbiamo detto graficamente che la trans caratteristica era fatta in questo modo quindi che cos'è una curva ID in funzione VGS in regione di saturazione vi ricordate abbiamo detto che aveva un andamento più o meno parabolico dove il vertice era in meno VP e l'intercetta con l'asse delle ordinate era in un punto che si chiamava IDSS e abbiamo scritto questa espressione ID uguale a IDSSS che moltiplica 1 meno VGS su VP al quadrato e poi abbiamo detto teniamo presente anche la dipendenza da VDS che a volte si trascura, ma stavolta mettiamola in modo esplicito e viene questa roba qua le caratteristiche di uscita invece come erano fatte? erano fatte così, rappresentiamole visto che ci siamo queste sono le trans caratteristiche di nuovo perché si chiama trans? perché la porta di uscita è in funzione della tensione sulla porta di ingresso la corrente della porta di uscita è in funzione della tensione sulla porta di ingresso le caratteristiche di uscita invece sono fatte così questo è il variare di VGS che cresce immaginiamo che il punto di riposo sia qui chiaramente il modello di piccolo segnale è una cosa che ha senso calcolare quando il comportamento del transistore è da generatore di corrente controllato da corrente quindi quando siamo in zona di saturazione queste sono le caratteristiche di uscita quindi mettiamo un punto di riposo in zona di saturazione e a questo punto posso scrivere questa caratteristica è valida in zona di saturazione quindi in zona di saturazione calcoliamo GM che cos'è? è la derivata di D rispetto a VGS calcolata nel punto di riposo allora non voglio fare il conto ma facciamolo invece una volta tanto facciamolo allora io faccio la derivata di D rispetto a VGS che cosa viene? viene facile, viene un 2 perché c'è questo poi viene IDSS poi viene 1 meno VGS su VP ok? la prensa è 1 questo VP viene fuori quindi mi viene qua va bene e poi mi viene un termine 1 più lambda VDS va bene? questo è costante rispetto a questa derivata allora questa espressione qui io come la posso riscrivere? la posso riscrivere notando che questa roba qua ho sostituito a VGS il valore grande perché poi devo calcolarlo in punto di riposo dove VGS vale VGS grande va bene questa roba assomiglia a questa perché praticamente tutto questo termine è uguale all'espressione di D diviso questo termine 1 meno VGS su VP quindi questo posso scriverlo come ID per 2 diviso VP e poi ancora diviso 1 meno VGS su VP va bene? e cioè semplificando viene 2 ID diviso VP meno VGS va bene? c'è una cosa che non va in questo ragionamento credo di aver dimenticato un termine credo di aver dimenticato un termine un segno meno in questa operazione perché VP è negativo è questo vedete perché qui c'è questo meno quando faccio la derivata qui mi viene un meno quindi qui mi viene un meno allora facciamo così mettiamo qui il meno e allora invece di VP meno VGS scriviamo VGS meno VP ok? quindi facciamo così circondiamolo questo è il valore di GM analogamente posso calcolare G O devo fare la derivata di D rispetto a VDS guardate se faccio la derivata di D rispetto a VDS che cosa succede? mi viene tutto questo mi viene calato come prima cioè questo termine IDSS per termine tra parentesi al quadrato per lambda va bene? quindi per comodità posso scriverlo come lambda per ID diviso 1 più lambda VDS posso scriverlo in questo modo e approssimativamente a volte questo si può scrivere semplicemente come lambda ID perché questo termine è 1 più lambda VDS molto vicino a 1 quindi di nuovo abbiamo che G O è lambda ID diviso 1 più lambda VDS o più semplicemente lambda ID va bene? ecco queste espressioni sono caratteristiche del transistore effetto di campo aggiunzione perché ho usato l'espressione delle caratteristiche del transistor effetto di campo aggiunzione posso farlo stesso per il MOSFET stesso ragionamento è utile farlo una volta insieme il conto di queste espressioni perché poi si usano chiaramente questa è l'espressione che posso ottenere dall'espressione analitica io ho quei valori là DGM e DGO posso ottenerli anche graficamente come vi ho fatto aspettate visto che ci sono li prendo qua sopra come vi ho fatto vedere per per il bipolare per esempio su questo grafico del JFET GM che cosa rappresenta? è la derivata di D rispetto a VGS per VDS costante ma la trans caratteristica è fatta a VDS costante quindi GM non è nient'altro che la pendenza della retta tangente al punto di riposo nelle trans caratteristiche va bene? mentre invece il G O è derivata di D rispetto a VDS a VGS costante ma di nuovo le caratteristiche di uscita sono a VGS costante quindi il G O è la pendenza della retta tangente il punto di riposo la caratteristica di uscita nel punto di riposo quindi così se le estraggo da questi grafici le estraggo graficamente e da queste espressioni le estraggo analiticamente vale quello che vi ho detto nel caso del bipolare in realtà siccome l'espressione analitica è apparentemente più precisa perché non devo non ho l'errore grafico di estraggo le quantità ma è molto approssimata perché quella non è una vera parabola ecco nella pratica allora è più accurato nella realtà estraggo graficamente i parametri di piccolo segnale dalle caratteristiche se le abbiamo in forma grafica che dalle espressioni analitiche per cui di solito l'espressione analitica si usa quando non c'è la caratteristica a disposizione ok la caratteristica grafica diciamo sperimentale a disposizione per i mosfet il ragionamento è simile ora faccio esattamente la stessa tabella per i mosfet prima le trans caratteristiche prendo un mosfet per il momento a canale n id in funzione di v g s per calcolare le trans caratteristiche questo è vt e questa è la caratteristica anche questa è calcolata per un vds costante in saturazione l'espressione analitica l'abbiamo vista insieme di questo tipo id uguale a beta vgs meno vt al quadrato per uno più lambda da vds queste sono trans caratteristiche a plurale perché in principio sono una famiglia di curve poi di solito se ne disegna a volte una sola perché tanto sono praticamente una sopra l'altra e le caratteristiche di uscita invece si disegnano facendo id in funzione di vds a vgs costante con vgs usato come parametro queste sono le caratteristiche di uscita di uscita allora di nuovo che cosa devo fare prendiamo la penna nera gm da definizione è la derivata di d rispetto a vgs calcolata nel punto di riposo quindi qui allora graficamente è la pendenza della retta tangente la caratteristica nel punto di riposo quindi questo è il gm la pendenza di questa retta dal punto di vista analitico io devo fare quella derivata facciamola rapida che cosa faccio immaginate se faccio la derivata di d rispetto a vgs mi viene un'espressione che è uguale all'id che però ha un 2 e ha questo termine vgs mvt solo alla prima non alla seconda quindi posso scriverla 2id rispetto e diviso vgs meno vt notate un'espressione molto simile a quella precedente e quella precedente veniva 2id diviso vgs meno vp stavolta invece abbiamo vt tensione di soglia l'espressione a parte questa è simile la g o è di nuovo per definizione la derivata della corrente di uscita rispetto alla tensione di uscita nel punto di riposo e se faccio questa derivata in pratica mi compare un lambda e mi sparisce il termine 1 più lambda vds quindi questa posso scriverla come lambda id diviso 1 più lambda vds che di nuovo è praticamente lambda id va bene quindi vedete le espressioni dei parametri piccolo segnale sono molto simili a quelli del jfet in pratica l'unica cosa che cambia è che qui al denominatore qui c'è vt e nel jfet c'è vp poi per il resto sono identiche va bene anche qui graficamente se questo è il punto di riposo la go ops questa è esagerata la go è la pendenza della retta tangente che in pratica più o meno vorrei dire la pendenza è la caratteristica perché in quel tratto la caratteristica più o meno è lineare va bene oh voglio finire questa cosa parlandovi del mosfet al canale p senza fare tutta la derivazione ma soltanto per farvi vedere come è fatto e che differenza c'è con il mosfet al canale n il mosfet al canale p ha un funzionamento di questo tipo abbiamo in pratica i due pozzetti che sono p più il gate l'ossido e il canale quindi c'è la struttura mosfet ugualmente vedete qui è l'unica cosa che c'è che abbiamo invertito i drogaggi questa volta che cos'è che cambia che per avere un canale qua dobbiamo avere un canale di lacune per avere continuità elettrica quindi dobbiamo attirare lacune qua all'interfaccia con l'ossido e per attirare lacune ci vuole necessariamente una tensione negativa sul gate rispetto al canale quindi mentre sul mosfet ha canale p il canale si forma perché applichiamo una tensione positiva sul gate rispetto per esempio al source che è l'elettrodo di riferimento nel mosfet a canale p il canale si forma il canale cariche positive e si forma se applichiamo la tensione abbastanza negativa sul gate che attiri le cariche positive d'accordo? quindi questa è la differenza principale per convenzione nel mosfet a canale p si chiama drain l'elettrodo a tensione più bassa mentre invece nel mosfet era l'elettrodo a canale n il drain era l'elettrodo a tensione più alta quindi la vds qui è negativa e le regioni di funzionamento sono in questo modo in interdizione abbiamo che il canale non si è formato perché la vgs non è abbastanza bassa quindi se vgs è maggiore di vtp il canale non si è formato questa vtp è la tensione di soglia del mosfet a canale p ora indico per distinguerlo una p di soglia del mosfet a canale p di solito le tensioni di soglia di mosfet si chiamano vt ma quando bisogna distinguere tra canale p e canale n si aggiunge n e p in modo da non confondersi notare che vtp per il discorso che abbiamo appena fatto è negativa quindi il mosfet è interdetto se vgs è maggiore di vtp e invece conduce se vgs è minore di vtp e può condurre come il transistore in due come il transistore a canale n in due condizioni diverse può essere regione lineare se sono soddisfatte due condizioni uno il canale presente quindi vgs è minore di vtp quindi è più alta in modulo perché è negativa ok più alta in modulo ma di segno negativa e poi cosa deve succedere deve succedere che anche la vgd deve essere minore di vtp perché siamo in regione lineare perché non deve essere chip in cioff al drain quindi deve essere anche la vgd minore di vtp vgd minore di vtp siccome vgd è vgs meno vds minore di vtp vuol dire che vds deve essere maggiore di dunque vds deve essere maggiore di meno no deve essere maggiore di vgs meno vtp allora guardate vgs meno vtp è negativa anche vds è negativa quindi questo maggiore vuol dire negativa ma in modulo minore in modulo più piccolo d'accordo quindi in pratica questo vuol dire il modulo di vds deve essere minore del modulo di vgs meno vtp quindi è esattamente uguale a quello che abbiamo detto per i transistori a canale n cambia soltanto i segni sia delle vgs sia delle vds sia della vtp in regione di saturazione invece abbiamo ovviamente che il canale c'è al source quindi vgs minore di vtp e però al drain abbiamo il pinch off quindi vgd deve essere maggiore di vtp e questo si traduce in vds minore di vgs meno vtp esattamente la stessa considerazione di prima soltanto invece che cambia il segno della disequazione quindi otteniamo questo ma siccome sono tutte quantità negative vuol dire che vds in modulo è più grande del modulo di vgs meno vtp va bene le espressioni aggiungiamole in qui in regione di saturazione vengono a essere di questo tipo id uguale beta p che moltiplica vgs meno vtp al quadrato per 1 più lambda vds modulo per non sbagliarsi quindi praticamente uguale a quella del mosfet a canale n con la differenza che in pratica è perché è uguale perché tanto questo è al quadrato quindi il segno non conta il beta cambia e qui per essere sicuri che la corrente aumenti quando aumenta il modulo vds abbiamo 1 più lambda vds va bene questa id è uscente dal drain se vogliamo essere precisi questa id siccome vds è minore di 0 la corrente va in questa direzione va dal source verso il drain perché il source è sempre l'elettrodo che emette le cariche il drain le raccoglie stavolta le cariche che scorrono sono positive perché sono lacune e quindi se le lacune vengono emesse dal source e raccolte dal drain vuol dire che la corrente segue la stessa direzione del flusso di lacune quindi con questo segno la corrente id è positiva in regione lineare vale la stessa cosa che sappiamo per il MOSFET HN quindi abbiamo VGS meno VTP per VDS dove di nuovo il segno meno VDS quadro se vogliamo fare una cosa completa VDS quadro se vogliamo fare una cosa completa dunque vediamo un po' se va bene così direi di sì sì perché in questo caso VDS è negativa ma anche VGS meno VTP è negativo quindi questo termine complessivamente rimane positivo con l'id presa con questo verso e vedete quindi la stessa espressione che abbiamo nel caso N quindi è abbastanza facile confondersi perché ovviamente quando le due cose sono simili ma non esattamente poi uno ogni tanto si confonde qui la cosa che bisogna ricordare è che la tensione di soglia è negativa le tensioni VGS e VDS sono negative le relazioni funzionali sono le stesse quando si trova la caratteristica di uscita disegnata di un MOSFET a canale P di solito si disegna in questo modo id in funzione di meno VDS se rappresentate id in funzione di meno VDS la caratteristica di un MOSFET a canale P è fatta così e e la VGS sale in questa direzione perché è negativa quindi più in alto la corrente più in alto quando sale in questa direzione vuol dire che il modulo sta decrescendo scendendo verso il basso e di solito trovate id in funzione di meno VDS con l'id uscente da drain P MOSFET quindi queste sono le caratteristiche di uscita le trans caratteristiche spesso le trovate rappresentate così per comodità id in funzione di meno VGS se fate id in funzione di meno VGS viene che fino a meno VPS la corrente è nulla e poi sale parabolicamente vedete quindi la curva è la stessa cambia soltanto i segni delle quantità va bene oh va bene per concludere questa cosa in questa lezione volevo soltanto dirvi i simboli in MOSFET che mi sono accorto che non ve l'ho mai indicati allora i simboli dei MOSFET sono due da conoscere allora spesso l'N MOSFET viene indicato in questo modo questo simbolo indica vedete c'è la freccia che mi indica il verso della corrente da drain verso source e poi questa parte qua che indica un connessatore a faccia e piane parallele e l'isolamento del dielettrico dell'isolante di gate vedete questo mi rappresenta il sistema MOS per i pin MOSFET si trova tipicamente una descrizione di questo tipo spesso quando si rappresentano i dispositivi anche se si tendono a far girare insomma se si può si mettono i terminali a tensione più alta verso l'alto e quelli a tensione più bassa verso il basso quindi nel pin MOSFET il source sarebbe a tensione più alta la freccia si mette in direzione opposta cioè dall'entrante al source perché la corrente va dal source verso il drain quindi la freccia indica la direzione positiva della corrente e quindi la differenza tra l'n MOSFET e il pin MOSFET nel disegno è soltanto la direzione della freccia bene quindi questo è il simbolo probabilmente più utilizzato è un simbolo a volte si usa questo simbolo con un cerchio intorno a volte no non ve lo faccio per comodità ma insomma spesso lo trovate anche con un cerchio intorno un altro simbolo che si usa a volte e che è utile vedere è un simbolo che mette in evidenza il fatto che c'è possibilità di avere un quarto terminale nel MOSFET perché il substrato cioè la regione dove si forma il canale volendo può essere contattato separatamente quindi avremo oltre che tre terminali che vi ho detto anche il contatto del substrato cioè la parte di silicio dove si forma il canale allora spesso si evidenzia questa cosa e il simbolo del MOSFET diventa con quattro terminali questo qua è il terminale di bulk che è in inglese vuol dire substrato quindi è il terminale è la regione dove si forma il canale quando si rappresenta in questo modo si mette la freccia così allora questa è una simbologia leggermente diversa che cosa rappresenta questo? questa freccia rappresenta l'aggiunzione PN tra il substrato e il canale perché nel MOSFET a canale N il canale è di tipo N ma il substrato sotto è di tipo P quindi c'è un'aggiunzione PN nella direzione della freccia e poi si indica esplicitamente il fatto che i drain e i source sono identici vedete uno si chiama D l'altro si chiama S ma sono esattamente lo stesso terminale non hanno distinzione si capisce che è solo una convenzione cosa si chiama D e cosa si chiama S e in questo caso nel MOSFET a canale P si fa la stessa cosa quindi questo è il terminale di bulk e la freccia si mette in questa direzione di nuovo perché stavolta il canale P e il substrato N e quindi la freccia c'è un'aggiunzione PN tra il canale e il substrato ma stavolta nell'altra direzione ok diciamo questo secondo simbolo che evidenzia il contatto di bulk si usa quando si usa il contatto di bulk ci si vuole fare qualcosa si vuole collegare in modo diciamo diciamo più beh a seconda il tipo di circuito che si vuole realizzare insomma si lavora anche col contatto di bulk nel nostro caso noi lo vedremo molto poco in pratica useremo quasi sempre i due simboli superiori che sono un po' più semplici